New Anchorvis, da sempre leader nel digitale e tra le prime aziende a proporre sul mercato link da incollaggio con flusso digitale strutturato a corredo, partendo dalla propria esperienza quotidiana, ha sviluppato e lanciato il nuovo link V4 Base, una ventata di modernità in linea con le esigenze del team clinico-tecnico. E così il V4 Base viene studiato per stravolgere i capisaldi della tradizionale tecnica ad incollaggio, originando una metodica effetto WOW. Nasce innova, efficiente, funzionale, unica. Il corpo filettato, tipico del V4 Base, introduce il concetto di avvitamento nella tecnica ad incollaggio ed è subito rivoluzione. Riduzione dei tempi di produzione, eliminazione delle fasi di cementazione e decementazione provvisorie durante gli step di prova nel cavo orale, risoluzione definitiva del fenomeno di decementazione. Il Pilot è un manipolo universale per chiave dinamometrica studiato per il serraggio del link alla struttura tramite analogo digitale. La metodica Innova, che prevede la realizzazione del filetto nella struttura, garantisce precisione nel risultato, grazie al perfetto accoppiamento che viene così garantito. Riduzione dei costi di gestione, potendo scegliere anche una soluzione model-free. La fase di cementazione viene velocizzata e semplificata. La possibilità di poter scegliere anche un foro di accesso drasticamente ridotto assicura un maggior appil estetico e funzionale. PMMA stampato e fresato, zirconia, cromo cobalto e titanio laser melting rappresentano il ventaglio dei materiali in cui possono essere richiesti, con metodica Innova, ponti, Toronto Bridge, barre ed elementi singoli. In relazione al cromo cobalto, la possibilità di rimuovere agevolmente il componente consente di eseguire tutte le cotture di ceramizzazione e finalizzazione del dispositivo, evitando l'ossidazione delle connessioni. Il V4 Clean Tool è lo strumento necessario per rimuovere lo strato di ossido generato durante i trattamenti termici sul metallo e per pulire la filettatura interna. Inoltre, in presenza di prototipi in materiali estetici ricavati con tecnologia 3D printing, il V4 Clean Tool si dimostra fondamentale per la rettifica di eventuali filettature non conformi. Infine, Innova è disponibile per le lavorazioni in-house in PMMA e zirconia stampato e fresato, con predisposizione ad hoc di librerie e protocolli di utilizzo. Innova, semplicemente geniale. Innova, semplicemente geniale.